Ciao amici di Playa Latina Web TV, siamo Claudia Loretta di Salsa Caribe Dance, una scuola di balle caribici di Ravenna e non solo e proseguiamo il nostro studio della salsa portoricana. In puntate precedenti abbiamo visto la figura chiamata Pilon, ora la applichiamo a una figura che avevamo visto anche quella precedentemente che è la combinata e diciamo rendiamo la combinata una combinata complicata. Passo la parola a Loretta per la spiegazione. Ok, passiamo quindi alla combinata complicata per cui partiamo sempre in questo caso in posizione check, volta a destra della donna, 1, 2, 3, 5, 6 e 7, immediatamente il braccio giù dell'uomo, giro a destra dell'uomo, 1, 2, 3, sempre col cambio mano, però attenzione al tempo 3 l'uomo quando torna frontale alla donna, mentre nella combinata rifaceva di nuovo un cambio di mano, in questo caso rimaniamo sempre con la stessa presa, braccio alto perché la donna girerà ancora, 5, 6 e 7, al 7 sempre braccio in alto, andremo a eseguire i passi, la classica figura che abbiamo visto precedentemente cioè il Pilon, quindi gancio sulla donna all'1 e al 3 sull'uomo eseguendo sempre da sotto i passi di cross. la rivediamo da sempre da questo lato completo senza la spiegazione solo col conteggio, quindi diventerà 1, 2, 3, 5, 6 e 7, 1, 2, 3, 5, 6 e 7, 1, 2, 3, 5, 6 e 7. Eseguiamo anche da questo lato, via, 1, 2, 3, 5, 6 e 7, 1, 2, 3, 5, 6 e 7. Ok, anche oggi è fatta, mi raccomando provatela e ci vediamo nella prossima puntata, ciao a tutti! Ciao a tutti!